Ma voi conoscete la nuova collana Prog Rock Italiano realizzata da De Agostini? La qualità del suono è unica, l'audio è stato inciso sui vinili direttamente dai nastri originali. Ogni uscita viene accompagnata da fascicoli ricchi di aneddoti e curiosità per la gioia di tutti i appassionati del genere. La cura sarà nei minimi dettagli, copertine, artwork e grafiche sono riproduzioni fedeli delle stampe originarie. Abbonandosi a Prog Rock Italiano, oltre all'opportunità di ricevere comodamente a casa tutte le uscite della collana, avrete in regalo diversi strumenti fondamentali per la vostra collezione unica di 33 giri.